Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany il tema di oggi è forse uno dei più richiesti qua sul mio canale quindi ci tenevo ovviamente a portarvelo visto che è qualcosa di davvero molto sentito, anche se davvero difficile però, insomma, di cosa stiamo parlando l'avrete già letto nel titolo ovvero come leggere in maniera più critica visto che è un video molto ponderato, io sono seduta, non sono in piedi come al solito voi direte ma perché non sei mai, vabbè, comunque insomma sono scema e niente, in pratica, mentre mi stavo mettendo a scrivere questo video mi sono resa conto che gli argomenti da toccare sono tantissimi e quindi ovviamente questa sarà la parte 1 di 4 oppure 1 di 3, lo scopriremo questa prima parte è una parte introduttiva ma nella quale ovviamente affronterò una serie più ampia di tematiche quelle legate magari più all'aspetto pedagogico quindi a quali processi effettivamente si mettono in moto nella comprensione di un testo e altre invece più psicologici mentre nelle prossime puntate noi affronteremo la trama, l'esposizione e la scrittura la struttura, il world building e il sistema magico e in ultimo la caratterizzazione e i personaggi che mi sembravano 4 tematiche abbastanza forti che possono insegnarci tanto durante la lettura e che sono quelli che fondamentalmente metto io in atto mentre leggo è arrivato anche il momento di una sfilza infinita di premesse la prima è che io non sono assolutamente qualificata per girare questo video nel senso che quello che vi sto per raccontare sono fondamentalmente dei ragionamenti che per scrivere questo video io ho iniziato a mettere giù quindi ho iniziato a pensare a che cosa faccio io mentre leggo a che cosa succede nel mio cervello mentre leggo ovviamente accompagnati da letture che ho fatto nel corso degli anni sia nei miei studi universitari che prima e in seguito legate all'apprendimento e alla comprensione del testo metto già le mani avanti perché io non sono né una psicologa non faccio l'educatrice né mi occupo di pedagogia non sono un'insegnante non sono nulla sono una cialtrona del web come tutti però penso che la mia esperienza il mio modo di approcciarmi ai testi e raccontarvelo sia il modo migliore nel quale posso rispondere alla domanda che mi fate sempre ovvero come leggere in maniera più critica cosa posso fare per leggere in maniera più critica in fondo quello che vi racconterò sono quelle cose che succedono a me nel mio cervello mentre leggo e come mi pongo di fronte ad un testo come sempre io non ho la verità in tasca sono estremamente intelligente ma non ho la verità in tasca scherzo ovviamente per tutti quelli da casa che non capiscono l'ironia non sono un'insegnante non ho delle competenze in materia ma sono anche una lettrice molto forte quindi penso che un po' di esperienza io l'abbia accumulata nel corso dei miei 30 anni e volevo iniziare questo video partendo da una domanda che è quella del perché è importante leggere in maniera critica sicuramente per non recepire e percepire tutto ciò che ci viene proposto dal mercato editoriale in maniera passiva l'interesse dell'industria editoriale delle case editrici e del mercato letterario è chiaramente quella di somministrare al pubblico certi titoli certi volumi, certi libri quindi proprio certi prodotti invece di altri e non sempre chiaramente viene presa in considerazione la bontà del prodotto che si sta proponendo al pubblico quindi al consumatore essere dei lettori attivi quindi non passivi e sviluppare senso critico nei prodotti che ci vengono sottoposti non solo chiaramente ci rende persone che filtrano non solo i libri ma che hanno anche la capacità di elaborare la realtà io in questo credo fortemente ma soprattutto proprio strettamente legato al mondo editoriale obbliga le case editrici a sottoporci dei prodotti e a proporci dei titoli che possono essere considerati validi che possono essere considerati interessanti che hanno un chiaro valore all'interno del mondo editoriale obbliga le case editrici a lavorare molto più duramente nella ricerca dei titoli nella ricerca delle cose da proporre al proprio pubblico ma non solo anche nella fase di editing di traduzione di revisione e di promozione è una serie è un discorso abbastanza ampio e complesso ovviamente io sono abbastanza idealista e quindi mi auguro che tutti diventeremo lettori critici cosa che ovviamente è difficile che non può succedere perché ognuno ha un approccio alla lettura che è molto diverso e ha degli scopi molto diversi però mi piace pensare che insomma l'editoria italiana possa progredire possa fare dei passi avanti non credo che dall'oggi al domani ci sarà questo espload di consapevolezza nell'editoria però insomma è importante secondo me dal punto di vista personale riuscire a essere persone che non accettano passivamente tutto ciò che ci viene proposto ma questo in generale nella vita questo video si sta già rivelando difficile perché io non so stare seduta composta e quindi va bene ci proveremo dobbiamo arrivare in fondo quindi il fine della lettura è sicuramente quello di capire capire che cose che succedono davanti ai nostri occhi tutti leggono per capire le informazioni che ricevono attraverso la lettura che sono chiaramente contenute nel testo che noi leggiamo imparando a farle proprie per poterle poi riutilizzare nei contesti della nostra vita quotidiana che sono ovviamente diversi molteplici e possono essere disparati e possono essere totalmente inutili queste informazioni a volte però spesso noi possiamo rielaborare proprio questo tipo di informazioni e poi può capitare che nella nostra vita si rivelino molto utili o comunque che ci trasformino anche come persone in qualcosa che ci diano delle prospettive che prima non avevamo considerato e ribadisco anche un concetto fondamentale ci si può approcciare al testo in maniere molto diverse non è obbligatorio approcciarsi a tutti i libri che leggiamo con una vena di profondità intellettuale così marcata anzi spesso leggiamo cose per spegnere il cervello spesso abbiamo bisogno di qualcosa che ci intrattenga che ci faccia svagare e che non ci faccia interrogare nuovamente su questioni fondamentali della nostra vita perché mi rendo conto che in questo momento storico a volte spegnere il cervello è la cosa che tutti ci auspichiamo ogni giorno perché almeno sarebbe più facile però devo dire che molte altre volte invece la lettura è proprio uno degli strumenti che io preferisco ma che tanti di noi voi preferite proprio per interrogarci su ciò che ci circonda e sulle dinamiche del reale cioè di ciò che sta fuori dai libri e vi dirò anche se leggete fantasy anzi molto spesso quando leggete fantasy si ha uno specchio molto più universale del reale e c'è una grossa differenza tra leggere e comprendere un testo chiaramente in quanto sono processi cognitivi differenti e non del tutto assimilabili anzi penso che un po' di dati perché quelli servono sempre già nel 2010 un rapporto dell'Unione Europea affermava che un ragazzo su due non fosse in grado di capire ciò che leggeva oggi sempre di più ci troviamo di fronte a persone che leggono magari in maniera chiara in maniera fluida ma che faticano a comprendere ciò che leggono e che non lo capiscono spesso poi ovviamente interviene quello che viene chiamato analfabetismo funzionale che ti illude di avere compreso qualcosa ma in realtà tu stai semplicemente interpretando e decidendo che cosa capire di un determinato messaggio ma non siamo qua per aprire questo capitolo che è molto ampio e non lo voglio nemmeno toccare perché se non ho la preparazione per fare questo video figuratevi per parlare di analfabetismo funzionale in fondo io faccio i disegnini nella vita e faccio le foto quindi non ho alcun tipo di preparazione e mi redo conto che guardando tanti video di tanti miei colleghi spesso proprio il concetto di comprensione del testo e la capacità di elaborarlo non sono proprio la prima cosa che vi viene in mente e che siano concetti distanti anni luce ma come lettori secondo me è sempre bene porci degli obiettivi per migliorare le nostre capacità di comprensione del testo per migliorare la nostra capacità di analisi allora questa puntata che è introduttiva ovviamente avrà tante nozioni che riguardano sia la pedagogia che anche la psicologia soprattutto l'ambito della psicologia cognitiva perché sono cose che aiutano secondo me con questi piccoli ineddoti che io ho letto durante vari esami e varie insomma varie letture nel corso del tempo che mi hanno aiutato un po' a capire qual è il mio processo mentale durante la lettura quindi spero che possano risultare abbastanza chiare e utili anche a voi e quindi l'attività di lettura ha maggiormente quindi ha soprattutto a che fare con il riconoscimento delle parole questo è ciò che avviene proprio mentre leggiamo però chiaramente non è un processo che ha a che fare solo con una componente linguistica con il riconoscimento delle parole però chiaramente non è sufficiente avere delle conoscenze solo di natura linguistica quindi fonologiche sintattiche semantiche ma anche conoscenze pregresse su ciò che accade attorno a queste parole su ciò che accade nel mondo intorno alle persone che permettono proprio al lettore di formulare ipotesi di creare aspettative di collegarle tra di loro e soprattutto di collegare le informazioni acquisite che non provengono solo dalla lettura che stiamo facendo in quel momento ma anche da altri testi il processo di decodifica dei testi ultimamente viene individuato dalla pedagogia con una parola anzi una doppia parola che si chiama reading literacy magari in italiano una traduzione non credo ovvero l'attitudine complessiva a capire utilizzare e riflettere sulle forme della lingua scritta per una piena realizzazione personale e sociale ovvero abbiamo in atto un processo che chiaramente ci insegna anche a collegarci con il mondo esterno e che ci dà una sorta di realizzazione perché ci rende più consapevoli in qualche modo non si sa bene di cosa ma consapevoli è una modalità di lettura molto più complessa di quella funzionale comprende aspetti cognitivi come ad esempio la decodifica linguistica la decodifica delle parole e la comprensione chiaramente del testo e con altri aspetti che hanno a che fare con la motivazione e il coinvolgimento personale del lettore e proprio la comprensione mette in gioco proprio diversi aspetti cognitivi indispensabili per interpretare autonomamente il testo sono processi che implicano come facciamo tutti mentre leggiamo proprio interrogare il testo stesso e interrogarsi sul testo le nostre capacità di fare previsioni di fare inferenze collegamenti proprio porci domande su ciò che stiamo leggendo in pratica dalla lettura noi passiamo alla concettualizzazione dall'integrazione delle informazioni che noi recepiamo e al collegamento con le nostre informazioni pregresse noi iniziamo a conservarle in memoria quindi loro diventano parte stessa della nostra memoria è un discorso complessissimo quello che ho fatto fino adesso però alla fine avrà senso ve lo giuro quindi quando vengono immagazzinate queste informazioni nella nostra memoria il nostro cervello ci dice praticamente una cosa saper comprendere un testo significa poter accedere alle proprie risorse intellettive per capire in un determinato contesto che cosa è richiesto fare come agire come muoversi in base alle proprie competenze specifiche a ciò che noi abbiamo ovviamente imparato di una determinata questione non riguarda solo ovviamente la narrativa e i romanzi questo è un discorso che è applicabile a qualunque testo noi leggiamo che sia un manuale che sia un saggio che sia una qualunque mail che riceviamo dai nostri colleghi o qualsiasi libro sul quale ovviamente studiamo perché essendo anziana faccio sempre questo step e quindi me lo dimentico e quindi capiamo che ciò che è richiesto fare in un determinato ambiente in un determinato contesto in un preciso momento in una precisa situazione e convertire l'informazione o il contenuto da ricordare in un'immagine visiva è un ottimo simolo che tantissime strategie metacognitive suggeriscono proprio per rendere la comprensione del testo più consapevole e strategica ovvero un modo nel quale è molto più facile accedere a certe informazioni trasformare ciò che leggiamo in immagine ci aiuta a memorizzarlo a ricordarlo e renderlo più velocemente impresso nella nostra mente quindi è un dato al quale noi possiamo accedere molto in fretta anche la componente emozionale che io metto sempre in ultimissimo piano durante la lettura in realtà è un forte strumento e direi anche uno stimolo per memorizzare le informazioni e chiaramente importantissime sono anche le esperienze personali che noi abbiamo fatto le competenze soggettive che noi abbiamo maturato nel corso degli anni in base alla nostra esperienza ai nostri studi al nostro lavoro perché chiaramente in base a ciò che noi siamo in base a ciò che noi abbiamo imparato e abbiamo vissuto rendono diverse per ognuno di noi le esperienze personali che noi abbiamo proprio con la lettura ma anche dall'interesse alla curiosità che noi dimostriamo verso certe tematiche verso certe informazioni e per immagazzinare le informazioni in modo ottimale occorrerebbe che le informazioni che noi acquisiamo chiaramente vadano in primis comprese e capite e poi sottoposta ad un processo di elaborazione mentale e di trasformazione in immagini mentali e che cosa succede in questa fase noi andiamo innanzitutto a fissare nella nostra memoria e nel nostro cervello ciò che abbiamo letto ciò che abbiamo appreso ma iniziamo anche a fare proprio dei collegamenti con altre informazioni che già avevamo nella nostra testa nel nostro cervello grazie alla nostra esperienza esperienza significa no tutta la vita esperienza significa anche il libro precedente che avete letto significa come fate la spesa le informazioni che noi colleghiamo nel cervello in questa fase sono talmente disparate che chiaramente è difficile anche poi inscatolarle in maniera molto definita in base alla nostra esperienza noi ricordiamo più cose rispetto ad altre se siamo persone che facilmente riescono a elaborare delle immagini di una determinata cosa chiaramente ci si imprimono molto più in fretta nel cervello e le manteniamo per più tempo e via dicendo insomma i processi mentali sono tantissimi e tutto ciò avrà senso ripeto alla fine di questo video perché è un processo cognitivo quello che noi mettiamo in atto durante la lettura che non è sempre consapevole perché noi leggiamo una frase e apparentemente pensiamo di averne capito il significato solo di quella frase ma in realtà noi lo stiamo collegando a una serie di memorie esperienze sensibilità diverse che noi abbiamo rispetto a quella frase a quella parola a quel significato variano da persona a persona non tutti abbiamo lo stesso livello di istruzione le stesse esperienze la stessa sensibilità anzi altrimenti saremmo davvero tutti identici e in più proprio mentre noi ricolleghiamo tutte queste informazioni che abbiamo recepito con altre che sono già nella nostra memoria che noi abbiamo già vissuto che noi abbiamo già sperimentato e attraverso le quali siamo passati spesso ci poniamo ulteriori domande su che cosa avremmo voluto vedere in più su quali informazioni ci mancano su che cosa non sappiamo ancora e che cosa abbiamo bisogno di conoscere ulteriormente pensate tutte le volte in cui leggete un libro finite il libro e pensate ora devo leggere altre mille cose chiaramente è come se il nostro cervello avesse appreso una serie di informazioni ma non fossero sufficienti per noi perché ne vogliamo molti di più e noi in questa fase tendiamo a non sostituire la nostra esperienza con ciò che stiamo leggendo tendiamo a integrare questi due processi e non a sovrapporli e per comprendere il testo bisogna davvero operare attivamente su ciò che si sta leggendo bisogna fare una vera e propria opera di trasformazione del contenuto di trasformazione delle informazioni che noi apprendiamo riga dopo riga le informazioni che noi acquisiamo man mano che leggiamo una volta che vengono messe in relazione con tutto ciò che noi abbiamo in memoria diventano estremamente più complesse diventano da un puntino minuscolo da una parola singola a una una sfera molto più ampia più grande di significato ed è questo il processo iniziale che ci porta a leggere in una maniera più analitica dopo questo pippone che probabilmente avrà veramente molto poco senso volevo iniziare un attimo a mettere giù anche qualche consiglio pratico su come iniziare ad approcciarsi alla lettura in maniera critica e voi direte ma non era lo scopo del video certo però secondo me prima è importante anche capire cosa succede all'interno del nostro cervello quando leggiamo e perché è importante leggere in maniera critica e quindi ci sono tecniche che chiaramente non so io mi trovo anche in maniera un po' strana a raccontarvi perché ciucci no ciucci 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 scusate c'è il gatto e proprio ci sono delle tecniche che chiaramente possono aiutare chi di voi vuole provare a migliorare l'approccio critico che ha al testo che probabilmente io nemmeno faccio perché mi è stato insegnato a leggere in questo modo ma non è detto che chi non ha imparato prima chi non ha avuto delle insegnanti o degli insegnanti che ti dessero gli strumenti per elaborare il testo per migliorare l'approccio che si ha al testo non possa venire poi ovviamente ora non si possa imparare non si possa migliorare anzi io credo fortemente in questo e una delle cose che a me fa più piacere sentirmi dire su Miss Fiction Books da quando ti seguo ho iniziato a guardare le cose in maniera un po' diversa questo secondo me è proprio il primissimo esempio di una persona inutile che parla di cose in maniera molto poco professionale ma che secondo me è il chiaro esempio di come si possa in qualsiasi momento della vita cercare di approcciarsi diversamente ad un testo quindi consigli su come partire questo è il kit iniziale su come iniziare a leggere in maniera critica innanzitutto non abbiate paura di iniziare a leggere un qualsiasi libro qualsiasi esso sia con in mano una matita e o un foglietto per gli appunti se siete disgraziati come me scriverete ai bordi del libro se avete paura di macchiarlo potete munirvi di post-it di block notice fatelo sarà più lungo leggere un libro le prime due tre quattro cinque volte sarà anche molto noioso molto fastidioso approcciarsi al libro così ma vedrete che dopo le prime volte forse non ne avrete più bisogno o forse diventerete molto più smart nel prendere appunti diventerà più facile diventerà meno pesante e se leggete su kindle sarà ancora più facile perché esistono le sottolineature e le note al testo quindi iniziate ad approcciarvi al testo proprio per estrapolarvi delle informazioni segnatevi man mano ciò che vi può essere utile una volta concluso il libro e grazie a queste piccole note che voi andrete a mettere a margine del testo ripeto per i puristi della pagina immacolata sui post it sui block notice dove volete e queste cose che voi andrete a segnarvi e che vi possono tornare utili mentre leggete errori cose che vi sono piaciute passaggi che secondo voi funzionano parti della caratterizzazione dei personaggi parte dello sviluppo della trama insomma tutte cose che vi possono tornare utili in seguito e che affronteremo nelle prossime puntate mi sento Alberto Angela in questo momento ed è bellissimo vedrete che grazie a queste numerose note noterete anche proprio il cambiamento da un primissimo approccio al testo in maniera un po' più pesante un po' più analitica rispetto a ciò che avete fatto in precedenza e niente questa probabilmente vi sembrerà la puntata più vaga ed inutile della storia di booktube avete totalmente ragione ma tenete a mente che tutte tenete a mente che tutte queste informazioni che vi ho dato sul processo cognitivo che ovviamente viene messo in atto durante la lettura sono cose che sono molto utili durante proprio la fase di elaborazione del testo perché capire anche come noi recepiamo alcune informazioni secondo me è molto utile non solo proprio durante la lettura ma anche come ci approcciamo al mondo quindi come noi mettiamo sempre in relazione con la nostra esperienza e con le nostre conoscenze progresse tutto ciò che invece è nuovo tutto ciò che dobbiamo filtrare giuro che piano piano andiamo anzi dalla prossima puntata chiaramente noi andremo a analizzare aspetti molto più specifici molto più diciamo tangibili del testo che secondo me possono essere molto più utili e che possono chiaramente insomma avere più senso per voi dovete avere pazienza con me come sempre niente io spero che questa puntata comunque sia una buona introduzione non sarà neanche estremamente lunga forse niente io sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questa rubrichetta che sarà divisa in quattro puntate che spero seguirete e che spero possa essere utilissima a tutti quelli che mi scrivono sempre come faccio a leggere in maniera più critica che è la domanda più difficile del mondo soprattutto quando ho chiesto a una persona totalmente incompetente come la sottoscritta niente io direi che per oggi siamo arrivati in fondo in fondo questa era solo l'introduzione non c'è bisogno di dilungarsi oltre voglio sapere cosa ne pensate giù nei commenti così ne parliamo insieme se avete anche domande richieste fatemelo sapere niente io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me direi che per oggi è tutto e quindi ci vediamo alla prossima puntata ciao